Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come rimuovere qualcuno dal gruppo Snapchat. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come rimuovere qualcuno dal gruppo Snapchat. Ora rimuoviamo qualcuno dal gruppo Snapchat e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Snapchat, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione Snapchat, ti indirizza qui e quello che farai qui ragazzi è semplicemente toccare la chat come puoi vederla. Ora qui ragazzi, se volete rimuovere qualcuno da un gruppo perché è così fastidioso nel gruppo, quello che farete è aprire la conversazione di gruppo proprio in questo modo. E ti indirizza qui nella conversazione di gruppo ora, basta toccare il nome del gruppo in alto come puoi vederlo. Quindi qui sotto ora puoi vedere tutti i membri del gruppo qui sotto se vuoi rimuovere uno di loro ragazzi, quello che farai è premere a lungo il nome del membro proprio in questo modo. E poi apparirà questo ragazzi e quello che farete qui è che, come potete vedere, c'è scritto rimuovi dal gruppo dovete toccarlo e loro toccano di nuovo rimuovi proprio così. Come puoi vedere, qualcuno è già stato rimosso dal gruppo e questi sono i passaggi e le modalità per rimuovere qualcuno da un gruppo. Grazie per aver guardato.